buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola v v maiuscola vera e professionale oggi parleremo di acufene fischi nelle orecchie fischi rumori sibili ronzi ring ring disturbi che non fanno vivere non fanno dormire la notte non fanno stare rilassati calmi che fanno gaspillier come dicono in francia disperdere le proprie energie mentali e anche fisiche perché mente e corpo sono l'unica cosa e fanno anche litigare con parenti moglie marito figli colleghi società ora ragazzi nella nostra associazione i prolegi associati da tantissimi anni abbiamo aiutato e aiutiamo moltissime persone come puoi vedere sulle testimonianze su www.iprolegi associati.com persone con questo problema dell'acufene con solo parole parole però create ad arte ad hoc e con un metodo dcs del dottor claudio saracino unico al mondo che ha le sue radici i suoi pilastri fondanti a los angeles beveri hills nell'associazione i prolegi associati di cui faccio parte dei due grandissimi professionisti dell'ipnosi vera e professionale la dottoressa rina brunini e il professor dottor michel angel garai unici al mondo io ragazzi sono partito da ipnotista autodidatta leggendo più di 2000 libri anche del 1600 1700 1800 ipnotizzando sulle spiagge di tutto il mondo 10 20 persone alla volta sulle strade nei ristoranti nelle mie fabbriche nelle mie attività nel mondo rappresentanti clienti dipendenti chi più ne ha più ne metta con una faccia tosta incredibile c'è una volta gente alcuni diciamo ecco che si mettevano a ridere però avevo scacciato via dolori cronici insonnia depressione panico ansia chi più ne ha più ne metta però quando nel 2008 a causa di un ictus fulminante che colpì mio padre e lo paralizzò per tutta la metà destra scrissi in tutto il mondo in tutte le lingue centinaia e centinaia di mail anche a medici psicologi psicoterapeuti di tutte le bandiere e nazionalità in tutte le lingue inglese francese tedesco giapponese chiedendo avete trattato con l'ipnosi casi di ictus perché la medicina tradizionale diceva a mio padre non c'è nulla da fare gli dai soltanto l'anticoagulante chi esperienza di ictus di paralisi sai che la medicina tradizionale non può fare nulla anche se ripeto devi sempre comunque affidarti andare perché una cosa non esclude l'altra attenzione perché nel sottoscritto negli associati dell'associazione i prolegi associati anche se sono medici psicologi psicoterapeuti di caratura internazionale né io né i miei associati nell'editore facciamo diagnosi terapia o cure quindi stai a te devi sempre comunque andare dal tuo medico a prescindere però l'audio mp3 che si chiama autoipnosi dcs del dottor claudio saracino usa parole ad hoc ad arte intrise impregnate di un antico sapere di quasi un secolo dell'associazione i prolegi associati dell'america latina bene ti possono eliminare anche fino al 100 per cento il tuo fastidio all'orecchio il tuo cufene senza mai senza sé è una delle caratteristiche dell'ipnosi dcs vera e professionale che tu puoi utilizzare i miei capolavori le opere d'arte fatte di parole pulite trasparenti comprensibili naturali eccetera eccetera anche per un tuo caro che non vuole essere aiutato che non ci crede che non vuole che si oppone che non vuole né farsi aiutare online con ipnosi dcs online del dottor claudio saracino che al momento sono sospese per problemi di tempo ma neanche da altri guru né andare da nessuna parte niente ci sono quelle persone o che non vogliono o che non possono sono due le categorie non voglio non posso non posso il vecchietto che sta buttato lì nel letto da tanti anni come l'era mio padre per un anno e mezzo due aveva piacchi di decupito era caduto in una depressione cronica voleva morire e l'abbiamo salvato con la dottoressa rina brunini online a più di undicimila chilometri di distanza da los angeles con l'ipnosi vera professionale con la v maiuscola è lo schiocco delle dita detto rocco alzati e cammini mio padre si è alzato e ha camminato e i miei occhi sono rimasti così non ci credevo se ricordo sono passati più di 12 anni e da lì è iniziato il mio percorso il mio viaggio del salmone e l'altra categoria e chi non oltre a mio padre sono anche i bambini che non possono non ti seguono oppure bambini che non prestano l'attenzione non partecipano e poi ci sono anche i colori quali non vogliono l'adolescente il giovane che sta buttato davanti alla tv nel letto non ne vuole sapere ok se tu segui la lettera e le istruzioni molto facili del dottore saracino a prova di nonna a prova di pigro e a prova l'idiota tu dirai montagna spostati e la montagna si sposterà senza ma e senza se ragazzi io sto mettendo la mia faccia la vedi questa faccia non per vendere non per avere un'entrata economica che non guasta perché il sottoscritto non sputa sui soldi perché il dottore claudio saracino sta bene per le prossime 40 vite grazie a dio partito da studente lavoratore senza una lira in tasca vicino milano in quel di modena ora grazie a dio posso dire grazie alla mia testa all'ipnosi vera professionale montagna spostati e la montagna si sposta fidati per cui la mia mission la mia missione non per vantarmi senza falsi ipocrisia è quella di diffondere il mio metodo testato su di me dal 2008 ad oggi perché il sottoscritto si auto ipnotizza e anche adesso sono ipnotizzato h24 non esiste nessun secondo nessuno dal 2008 ad oggi in cui io non sia ipnotizzato anche se non sembra come in questo momento ok per cui quello ho messo dieci anni un piccolo tempo per mettere la mia faccia giocarmi tra virgolette tutta la mia reputazione per stare davanti a te perché mi sono detto finché sono su questa terra finché respiro finché faccio l'ultimo dei miei passi la mia mission è quella di aiutare tanta gente perché poi le opere d'arte gli audio i miei servizi quello che alla fin fine a pagamento ragazzi lo gestisce l'associazione i prologi associati di beverly hills los angeles e con accordi e concessioni in tutte le parti del mondo in base al paese in cui ci si trova c'è la gestione dei miei diritti da parte della concessionaria e dell'associazione i prologi associati di los angeles beverly hills io capisco che mi scrivete in tantissimi la mia associazione i prologi associati di los angeles riceve centinaia e centinaia di mail al giorno però bisogna avere pazienza vi riferisco soprattutto a chi è in pazienza sta scalpitando perché vuole apprendere questo metodo tra cui ci sono molti medici psicologi psicoterapeuti ma anche gente comune comuni mortali come li definisco io che vogliono imparare che magari sono esperti dell'ipnosi conformista e commerciale di milton erickson brian ways deve elman e chi più ne ha più ne metta ottimi ripeto e nessuno dice il contrario ma questo metodo che proviene da los angeles è un metodo unico al mondo se lo dice il sottoscritto può stare tranquillo non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi shock l'ipnosi conformista e commerciale è veramente un altro pianeta un altro mondo ragazzi a me piace parlare con i fatti non mi piace parlare di teoria di accademie di di mettere le persone tra due sedie la scossa dietro le feste dicono in francia significa il lato b a me interessa se tu stai male di trovare la tua soluzione come nel caso della cufena senza ma e senza se ok quanto dai alla soluzione del tuo problema fatti la domanda e datti la risposta perché sento alcuni che mi paragonano a quello che vedono in giro di meditazione in pronsi conformista commerciale magari gratis magari a pochi spicci altro giorno mi ha scritto un signore da francoforti in germania dicendo dottore ma qui noi troviamo a 10 euro a audio ho detto vai accomodati nessuno dice il contrario risolve il tuo problema con 10 euro con zero con gratis ben venga ma se tu non risolve il tuo problema bene prova anche no audio di csm p3 perché rinunciare ad una colazione al giorno per 30 giorni non credo che sia la fine del mondo il sottoscritto nel dal 2000 diciamo da da circa vent'anni ha speso più di 100 mila euro per formarsi nel campo del magnetismo dell'ipnosi della suggestione con vari guru internazionali ragazzi finché non sono arrivato al non plus ultra la dottoressa rina brunini di los angeles baby hills e al grandissimo professor dottor miguel angel gara i miei mentori miei associati cose mai viste in tutta la mia vita ecco perché io la definisco ipnosi di css vera e professionale bene mi sono dilungato troppo fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni se hai un problema di acufene te o un tuo caro puoi cliccare giù o su in base all'app che stai usando e scaricarti l'audio di csm p3 molto potente che non hanno nessun effetto collaterale nessun danno nessun rischio perché sono parole ad hoc semplici pulite ma create ad arte con uno studio incredibile dietro di quasi un secolo di ipnosi di css vera e professionale che non ha nulla a che vedere con gli effetti collaterali che qualche guru dell'ipnosi conformista e commerciale predica che insegnano all'università perché ricordati l'ipnosi prima di essere scienza perché riconosciuta dall'associazione medica mondiale nel 1958 come medicina alternativa e aggiungo anche complementare dovrebbe essere e dalla chiesa con papà pionone nel 1847 l'ipnosi dcs vera e professionale arte arte e gli effetti collaterali e i danni non ci sono perché dipende per il 99 per cento dalla suggestione che dai dalla parola che fai perché tutti siamo bravi a dipingere ma non tutti siamo artisti e così anche nel mondo dell'ipnosi poi se non ti fidi il sottoscritto non ti fidi di quello che ti dico a prescindere da me dalle mie opere puoi andare da un professionista dell'ipnosi vera e professionale però attento e attenta della tua zona ti siedi fai domande perché chi domanda comanda e che abbia però affrontato e trattato già casi come il tuo ed inizi se risolve il problema ben venga anche se magari spenderei per 10 e per 20 in più ok a te solo la scelta non ci sono problemi mi raccomando non cascarne le trappole dei ciarlatani ma neanche dei guru blasonati con mille titoli e gagliardetti altisonanti che bla 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 poi stringi stringi 000 tu devi e puoi andare presso persone che ti risolvono il problema senza mai senza se lo dice il sottoscritto e che prima di approcciare alla dottoressa rina brunini le aveva provate tutto provato anche supporti gratis a pochi soldi a pochi spicci però notavo degli effetti temporanei che sparivano ok per cui nelle mie opere d'arte c'è tutta un'esperienza pratica prima sul sottoscritto e poi su centinaia e centinaia di persone nel mondo di tutte le estrazioni sociali culturali e religiose perché il sottoscritto e come santommaso se non vedo se non tocco non credo e ho migliorato approfondito per trasformare gli effetti temporanei in effetti duraturi come ti spiego anche nel mio libro e nei miei corsi che presto usciranno fammi tutte le domande del caso scarica di questo audio mp 13 s no acufene e segue le istruzioni molto facile a prova di non a prova di piccolo a prova di chiota e cambia la tua vita cambiala visita il mio sito internet www.iprologi associati puntocom visita la mia fan page ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesare il dottor claudio saracino e fai share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli cambia veramente la vita ragazzi la vita come è successo a me nel 2008 durante la crisi nera dove il mondo si stava dissolvendo mi sono salvato grazie all'ipnosi vera e professionale di los angeles baby hills in tutti i sensi immaginabile e possibile e visita seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesare il dottor claudio saracino e mi raccomando commenta scrivi fammi tutte le domande del caso anche la più banale perché ti posso rispondere per dissipare risolvere tutti i tuoi dubbi ma a prescindere dal sottoscritto vai presso ricorda dell'ipnosi la può utilizzare la usa anche un medico uno psicologo uno psicoterapeuta anche se su 100 persone medico psicologi psicoterapeuti quindi operatori sanitari soltanto uno conosce l'ipnosi vera e professionale ok inoltre ricorda che l'ipnosi se tu scrivi su internet viene utilizzata anche negli ospedali di tutto il mondo per anestetizzare persone intolleranti ai farmaci la usano anche per partorire la principessa cate della corona inglese inghilterra eccetera eccetera ma centinaia di personaggi famosi come può trovare sul mio sito internet www.ipronologiassociati.com per cui non credere a me credi in te stesso credi nel potere di questa mente e azione 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 un bacio un abbraccio dal dottor claudio sulla cina alla prossima